Primo giorno di Green Pass, i quotidiani in Locandina parlano dei disagi in trasporto pubblico, nel piazzale della stazione però non c'è gente rimasta a piedi e il personale non è disposto a parlare. Bocche cucite tra quanti e sono la stragrande maggioranza erano presenti al lavoro. 21 infatti gli autisti senza Green Pass che sono rimasti a casa su 153 conducenti in organico e utenti abbastanza ignari delle possibili difficoltà. Per sopperire l'assente si è ricorso anche a meccanici e persone degli uffici che avendo la patente necessaria sono stati fatti tornare intanto per oggi al volante. Stando così così il problema va risolto, noi adesso stiamo appunto cercando di trovare nuovi autisti ma soprattutto di garantire un servizio di tamponi che possa permettere a queste persone di poter lavorare. Preoccupato? Ma un po' sicuramente sì perché non si poteva fare prima perché molti ci dicono dovevate programmare però le condizioni personali di uno che ha Green Pass o no si potevano scoprire 48 ore prima quindi ci siamo trovati lunghi nella speranza che gran parte degli autisti come del resto c'era fosse provvisto di Green Pass. Nel complesso il primo giorno di Green Pass obbligatorio per lavorare ha portato alla cancellazione di un centinaio di corse del trasporto pubblico bellunese. Sono saltate alcune tratte scolastiche e navette che venivano utilizzate dai lavoratori dell'occhialeria impiegati ad Agordo, Longarone e Incadore, particolarmente colpiti dalle cancellazioni, Lagordino e Feltrino, anche se a pagare il prezzo più salato sarebbe stato il servizio urbano di Belluno con oltre 50 corse cancellate.